Ciao a tutti, sono Luca Perri e sono un astrofisico. L'idea che abbiamo degli scienziati è quella di persone rigorose e razionali che passano il loro tempo in laboratorio a lavorare fino a che un giorno non hanno un'idea geniale e urlano Eureka! In realtà gli scienziati non sono così, sono persone normali con delle emozioni e dei pregiudizi che influenzano il loro lavoro e lo influenzano perché li fanno sbagliare. Loro passano le loro giornate a sbagliare in continuazione, poi hanno un'idea geniale, ci si buttano a capofitto e sbagliano ancora di più. Gli errori però nella scienza sono normali ma sono anche importantissimi perché il metodo scientifico ci aiuta a individuarli e poi quando li abbiamo individuati miglioriamo. Una persona può sbagliare, due, dieci, cento possono sbagliare ma è difficile che lo facciano milioni di scienziati e quando troviamo l'errore di solito miglioriamo tutti. Grazie a tutti!